Buongiorno, sono Alessandra Barone e oggi eseguirò uno studio di Gurli e successivamente quattro brani tratti dall'antologia Aaron del terzo volume, che si intitolano Aria di Bach, I campi di grano di Knieper, la danza norvegese del villaggio di Aaron e infine I due giocoglieri di Aaron. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti